Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale dove oggi torneremo a parlare insieme di videosorveglianza, un argomento su cui ci soffermiamo spesso cercando quando possibile le soluzioni più innovative e particolari di cui fa sicuramente parte questa telecamera dalla costruzione decisamente originale perché imitando la forma di un comune faretto a led alimentato a energia solare e quindi completamente privo di cavi permette un monitoraggio discreto per non dire assolutamente anonimo. Detto questo però come sempre prima di proseguire se vi piacciono questi contenuti potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo naturalmente vi ringrazio di cuore in anticipo. Per quanto riguarda le specifiche più importanti questa telecamera può registrare e trasmettere in diretta un flusso video in full hd ed essendo alimentata da una batteria agli ioni di litio da 5.000 mAh il sesore di movimento non poteva essere che di tipo PIR che quindi per rilevare le anomalie e inviare le notifiche all'applicazione sfrutta le differenze di temperatura tra l'ambiente e l'eventuale intruso. Naturalmente essendo destinata ad un uso esterno è protetta da polvere e schizzi d'acqua con una certificazione IP66 anche se il mio consiglio come sempre per farla durare il più a lungo possibile è quello di proteggerla al meglio dalle intemperie ed infine vista la costruzione particolare il pannello anteriore è quasi completamente occupato dai 12 faretti a led da 2 watt ciascuno che integrano altrettanti led ad infrarosso per la visione notturna in bianco e nero completissima la dotazione di accessori contenuta nella confezione a corredo della telecamera che comprende un manuale di istruzioni davvero ben fatto e anche in italiano che entra nel dettaglio di tutti gli aspetti che un neofita ha bisogno di conoscere per poter iniziare senza troppe complicazioni poi c'è ovviamente la telecamera sulla quale torneremo nel dettaglio tra un attimo un sacchettino con un cacciavite un cavo usb regolare micro usb per un eventuale ricarica manuale della batteria nel caso in cui quella solare non fosse sufficiente una serie di viti molto piccole che useremo tra un attimo per fissare il pannello posteriore ed infine anche una coppia di tasselli dotati anch'essi di viti per il montaggio diretto a parete che altrimenti si può fare con l'intermediazione della staffa contenuta in questa scatolina corredata anch'essa di vite e tasselli che per esigenze particolari permette di inclinare la telecamera che pur essendo completamente in plastica possiede comunque una qualità costruttiva più che accettabile e comunque in linea con quella di una luce di cortesia con cui in realtà deve essere scambiata ed è proprio per questo che sul pannello superiore c'è naturalmente il piccolo pannello solare da 6 volt e 200 mAh per ricaricare la batteria integrata e l'inserto per il montaggio diretto a parete che si fa sfruttando questi due fori mentre sul davanti oltre all'obiettivo e ai 24 led 12 per l'illuminazione bianca e 12 per quella di infrarossi ci sono anche un indicatore a led il microfono ed infine i due sensori di luminosità e di movimento sul retro invece ci sono l'altoparlante e il foro per la staffa aggiuntiva che come abbiamo detto permette di variare l'inclinazione della telecamera e poi anche il pannello rimovibile che si fissa con le viti che abbiamo visto qualche istante fa sotto il quale ci sono la porta micro usb per la ricarica manuale lo slot per la schedina micro sd supportata fino a 128 gb il pulsante di accesione spegnimento ed infine anche quello per riportarla alle impostazioni di fabbrica la prima configurazione è gestita da box un'applicazione che conosciamo bene e che viene regolarmente aggiornata per risolvere eventuali problemi per cui dopo aver creato un account concesso i vari permessi autorizzazioni e raggiunto la schermata principale dove per aggiungere la nuova telecamera dovremo cliccare sul simbolo del più che si trova qui in alto a destra poi nella schermata successiva tra le tre opzioni disponibili in questo caso dovremo scegliere la prima installa dispositivo wifi a questo punto dovremo accendere la telecamera nel prossimo step potremo assegnare un nome ed inserirla anche in un particolare ambiente che avremo creato in precedenza poi dovremo scegliere la rete wifi a cui vogliamo connetterla che deve essere per forza a 2,4 gigahertz inserendo anche la relativa password così che lo smartphone oltre a visualizzare un codice qr emetterà anche un suono piuttosto fastidioso che permetterà però la telecamera di associarsi correttamente all'applicazione il che conclude la prima configurazione che come avete visto è davvero semplicissima e al pari della prima configurazione sono molto semplici anche le impostazioni iniziando proprio dalla miniatura dove si può vedere a colpo d'occhio lo stato della telecamera la potenza del segnale della rete wifi e la capacità residua della batteria mentre da qui sopra come sempre si possono trovare i contatti del supporto tecnico attivare oppure disabilitare l'invio delle notifiche ed infine entrare in questo menu semplificato da dove si può condividere la telecamera con altri utenti e verificare lo stato del servizio di cloud che dopo un periodo di prova gratuito diventa pagamento e dove è compresa anche la possibilità di usare Alexa per lo streaming sottoscrivendo un abbonamento di 30 oppure 180 giorni ad ogni modo tornando alla schermata principale e cliccando invece sulla miniatura entreremo naturalmente nella vista live da dove oltre a vedere in diretta quanto inquadrato dalla telecamera potremo anche modificare alcune impostazioni iniziando dalla qualità del flusso video che può essere in alta oppure bassa definizione mentre da qui a destra potremo vedere il numero di utenti collegati mettere la visione a schermo intero e cambiare velocemente la modalità notturna che può essere ad infrarosso e quindi in bianco e nero oppure a colori con i faretti a led infine con le 5 icone che si trovano qui in basso potremo partendo da sinistra verso destra accendere l'altoparlante integrato e il microfono così da ascoltare i suoni ambientali e parlare con chi si trova nell'inquadratura scattare una fotografia e registrare un breve video che saranno entrambi salvati in locale nella memoria dello smartphone ed infine consultare e volendo anche scaricare sullo smartphone le registrazioni video che il sensore peer ha fatto registrare alla telecamera quando ha rilevato la presenza di un intruso video che possono ovviamente essere salvati sia in locale sulla schedina micro sd sia online sul servizio di cloud mentre cliccando qui in alto a destra sulla rotellina dentata entreremo nel menu impostazioni che è molto semplice infatti avremo a disposizione soltanto 9 opzioni per cambiare il nome della telecamera consultare lo stato della schedina micro sd abilitandola per le registrazioni oppure nel caso ce ne fosse bisogno formattandola poi con la prossima opzione per installazioni particolari come per esempio a soffitto con la telecamera quindi sotto sopra potremo capovolgere l'immagine in orizzontale verticale oppure in entrambi i sensi mentre con la voce seguente si può impostare manualmente escludendo quindi il sensore di luminosità la visione notturna che può essere automatica oppure forzata manualmente continuando con la prossima opzione è possibile accendere oppure spegnere il sensore di movimento regolando anche la sensibilità che può essere impostata su tre livelli e quindi alto medio oppure basso ed ovviamente essendo questa una telecamera batteria riveste un ruolo molto più importante la prossima opzione con cui si può scegliere l'intervallo di tempo durante il quale in occasione della rilevazione la telecamera registrerà un video che può durare tra 5 e 60 secondi prima di tornare in standby lasciandola anche con l'ultima opzione costantemente attiva il che però avrà ovviamente un impatto notevole sulla durata della batteria per finire con le ultime tre voci decisamente meno importanti che permettono di scegliere la frequenza della luce artificiale per evitare fastidiosi sfarfallì durante le ore notturne di spegnere oppure accendere l'indicatore a led ed infine anche di sincronizzare correttamente l'orario condizione questa indispensabile come sappiamo per ritrovare poi le eventuali registrazioni video il che conclude l'analisi del menu impostazioni che come vi avevo anticipato è davvero molto basico per cui possiamo trasferirci ai test sul campo iniziando come sempre dalle notifiche che ormai come d'abitudine anche in questo caso per arrivare impiegano non più di una manciata di secondi continuiamo con il test di urmo partendo come sempre a circa due metri distanza da vedere le camera bisogna arrivare in fondo a 15 metri distanza 4 metri distanza 6 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 metri distanza ed infine chiudiamo con la piastatura a colore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.